Un altro tema molto importante, ve lo accennavo, è la formazione e lo sviluppo del personale e dell'amministrazione, perché se non c'è il personale capace, motivato, le cose non vanno avanti, è come nelle aziende, io posso avere tutti i miei obiettivi, i migliori di questo mondo, ma se poi le persone che devono attuarli sono demotivate, non sono formate per farlo, non sono collocate nella posizione giusta, gli obiettivi non si raggiungono e non si raggiungeranno mai, rimarranno parole al vento, per cui lavoreremo per individuare la giusta collocazione delle risorse, la loro formazione e la costituzione di unità all'interno del mondo.